Tornando ai temi legati alla Juventus, il brand bianco-nero è un brand che vince, che convince e che acquisisce punti importanti non solo in classifica. Barbara Ricci per raccontarci tutto questo attraverso i numeri. Ciao Barbara. Ciao Eleonora, buongiorno a tutti. Allora, dobbiamo parlare del valore dello scudetto in casa Juventus, non solo in termini di valore sportivo ma anche in altri termini, il peso proprio di questo scudetto. Sì, dunque, chiaramente lo scudetto di qualsiasi squadra impatta su molte voci del bilancio e dell'attività della società. Vediamo quali sono queste voci, anche se non sempre è facilissimo dare un valore perché molto dipende appunto dalla società che ha vinto lo scudetto. Nel caso della Juventus è una società abbastanza abituata a vincere, quindi gli incrementi possono essere percentualmente inferiori. Intanto partirei, magari questa grafica la vediamo dopo perché servono prima altre voci, serve spiegare ai nostri spettatori altre voci. Intanto partiamo con la prima delle voci che chiunque si immagina possa essere un incremento importante, che è quella dei diritti televisivi. Uno pensa che vincere una competizione, magari siamo abituati anche alla Champions League, possa portare nelle casse un cifre molto importanti. In verità è vero per la Champions League, dove quest'anno per esempio chi vincerà porterà a casa 60 milioni di euro. Meno vero per il campionato, perché il nostro campionato premia il primo posto solamente con 200 mila euro in più rispetto alla seconda posizione. Chiaro che rispetto all'ultima la società che vince si porta a casa alcuni milioni di euro, ma certamente chi vince non era in predicato di arrivare ultima, ma seconda o terza. E questi soldi dove vanno messi, in quale, ad esempio, guardando... Vanno nel fatturato. Vanno nel fatturato. Quindi quel più 18% che abbiamo visto, un dato significativo del Milan dopo lo Scudetto, comprendeva anche questa voce. Le voci legate al brand, immagino, siano anche fonti di guadagno. Diciamo che il brand poi viene un po' da ultimo a racchiudere tutti questi incrementi che, se li vogliamo elencare, sono intanto i premi e gli incrementi delle sponsorizzazioni. Di solito sono già previsti dei premi a vincere nei contratti in essere, che si stima possano essere circa il 10% dei contratti. Però è molto variabile, dipende dall'importanza dei contratti. Spesso, appunto, una società come la Juventus sconta già, valuta già nella stipula del contratto posizioni molto elevate di classifica, per cui i contratti spesso sono molto importanti e magari possono non avere questi premi. In ogni caso, nell'anno successivo, le opportunità per una squadra che vince uno Scudetto, senz'altro, sono maggiori. Comunque le possiamo valutare intorno al 10%. La partecipazione alla Champions dà una possibilità, ma non dà un vero e proprio introito. E anche questa possibilità comunque la squadra l'avrebbe avuta anche se fosse arrivata seconda, quindi non la possiamo imputare direttamente allo Scudetto. C'è un incremento del valore dei calciatori. Avendo la Juventus vinto l'anno scorso, abbiamo dei dati abbastanza certi. Lo scorso anno era valutato che l'aumento del valore dei giocatori della Juventus fosse stato intorno ai 50 milioni di euro. Sono tutte stime, tutte opinabili, perché poi il parco giocatori, la rosa dei giocatori non resta fissa. Per cui vengono venduti, vengono tenuti. È chiaro che un giocatore che resta aumenta il suo valore. E qui, torniamo al brand, impatta sulla capitalizzazione, sul valore del brand, ma non è, per esempio, non rientra nel fatturato. Perché se tu non lo vendi, non si trasforma in un'entrata economica, ma resta un'entità di tipo finanziario. Ci sono anche i premi ai giocatori, quindi questo è un costo, dopo uno Scudetto. Anche qui, stime dell'anno scorso sono state valutate intorno a 10 milioni di euro, ma la Juventus è assicurata. Quindi questo per la Juventus è un dato trasparente. Ci sono squadre che invece non si assicurano. Beh, sono dati trasparenti tutti quanti, nel senso che comunque la Juventus, poi essendo quotata in borsa, deve stare anche molto attenta a certi elementi, ad esempio anche, se ne parla molto adesso per il mercato, gli investimenti che verranno fatti, perché quando viene pianificato un lavoro anche sul mercato, vengono dichiarate certe cose, non è che si può cambiare dall'oggi al domani. Quindi anche in quello c'è grande trasparenza. Commettiamo questi dati che sono interessanti. Allora, questa tabella riepiloga i dati, i valori della Juventus, il valore di capitalizzazione della società, il fatturato e il valore del brand, sia nel 2012, quindi riferimento la stagione precedente, quindi la Juventus non aveva vinto lo Scudetto, sia nel 2013, sono dati pubblicati da poco, noi abbiamo fatto una rielaborazione in euro, sono dati pubblicati da Forbes in altre forme, ma comunque tutti in dollari, ma qui abbiamo fatto una rivalutazione in euro e poi nell'ultima colonna a destra si vede il valore in dollari. Tra il 2012 e il 2013, quindi con la vittoria dello Scudetto, la Juventus ha avuto un incremento medio del 17%, che è diviso in un più 21,5% sul valore di capitalizzazione della società, il 14% sul fatturato e un 17,5% sul brand. È chiaro che il valore della società, essendo una società quotata in borsa, varia anche in base al valore di borsa, per cui è difficilmente stimabile cosa succederà nell'anno che verrà. Gli altri dati sono dati invece più concreti, perché dipendono effettivamente dal fatturato, e il brand sono stime, vengono fatte delle valutazioni in base a tutti gli elementi di cui abbiamo parlato prima, senz'altro la vittoria e la partecipazione alla Champions League è uno degli elementi più importanti che contribuiscono all'incremento del valore del brand. Se possiamo rivedere la grafica di prima, nell'ultima colonna a destra abbiamo applicato la percentuale di incrementi maturata tra lo scudetto dello scorso anno e quest'anno, quindi un dato certo, abbiamo fatto una proiezione sul 2014. Per vedere, ferme restando queste percentuali, che comunque cambieranno, ma potranno essere attendibili, prima abbiamo visto passare la stessa tabella fatta sullo scudetto del Milan del 2011, mediamente era un 18%, qui mediamente fa 17%, quindi possiamo considerare che queste percentuali potranno essere mantenute anche sulla prossima stagione. Quindi, incrementando i valori attuali della Juventus, con le stesse percentuali di incremento avute dopo lo scudetto 2012, si ha una proiezione sul 2014 del valore della Juventus, che va come capitalizzazione della società a 664 milioni di euro, fatturato 223 e il valore del brand 85. L'ultima colonna in dollari ci serve per poter confrontare, quindi la Juventus sfiorerebbe i 900 milioni di dollari di capitalizzazione. Questo dato è interessante perché se lo rapportiamo alla classifica dei club più ricchi del mondo, di cui abbiamo diffusamente parlato nell'ultimo appuntamento che abbiamo avuto, questa classifica è appena uscita e la Juventus era abbastanza ben posizionata all'ottavo posto, ferma all'ottavo posto già dallo scorso anno. Vediamo che se inserissimo qui quel dato intorno ai 900 milioni di dollari di valore di capitalizzazione, la Juventus sfiorerebbe l'attuale valore del Chelsea. Chiaramente i dati delle altre società si modificheranno nel corso di quest'anno, ma è un esercizio giusto per vedere dove potrebbe andare a sbattere la Juventus il prossimo anno. Il Milan, che quest'anno non ha vinto, che già lo scorso anno, non avendo vinto, non avendo fatto investimenti di particolare rilievo per questo tipo di calcoli, e cioè lo stadio, aveva perso un 4% di valore di capitalizzazione. Se perdesse di nuovo circa un 4% e la Juventus salisse di questo circa mediamente 17%, quindi la Juventus andrebbe intorno ai 900, il Milan sarebbe di poco superiore ai 900, il prossimo anno saranno molto vicine o potrebbe anche esserci un sorpasso della Juventus nel ranking internazionale del valore delle società. Questo giusto per così far divertire i nostri... No, ci sta anche perché comunque spicca, visto che in termini di vittoria il Real Madrid è là sopra, in alto, più 76%. Gli spagnoli sono inarrivabili. Sì, sono inarrivabili, hanno dei debiti ancora abbastanza elevati, però certamente è un modello diverso, così come è stato e è ancora un modello completamente diverso quello del Manchester. Cioè non sono ancora stati abbastanza studiati, abbastanza analizzati questi due modelli che sono diversi tra loro, ma diversi anche dal resto del calcio. Banalmente oggi si parla di Manchester, una delle particolarità del Manchester, oltre a questa longevità dell'allenatore, che comunque è un asset molto importante per il club e per la società. Che ripercussione avrà, secondo te, l'addio di Sir Alex Ferguson? Anche se non è un addio vero e proprio, è solo un riposizionamento, chiamiamolo così. Però non è più in un ruolo centrale, portante per le decisioni che vengono prese per la squadra in campo. Io credo che l'inammovibilità dell'allenatore, al di là che fosse un fuoriclasse come Ferguson, ma l'inammovibilità dell'allenatore abbia dato una stabilità e una forza al management che le altre squadre si sognano. Banalmente è una filosofia che la Juventus in qualche modo, a fasi alterne, ma questa gestione e anche quella precedente alla penultima hanno tentato di seguire. Cioè questa forza della società che non viene mai messa in discussione, di fronte alla quale il singolo, che sia un dirigente importante, che sia un calciatore, vale molto poco. Io credo che sarà un asset che viene meno molto forte, ma credo anche che la società ne sia consapevole. Quindi la posizione che daranno a Ferguson sarà comunque molto importante. Di rilievo, sì. La differenza, esatto, di simbolo, ma anche credo di gestione del potere interno della società. Io quello che volevo dire è che il Manchester, quando parliamo di modello diverso, per cui i numeri anche sono difficilmente comparabili, da sempre tutte le attività commerciali e di merchandising del Manchester sono fatte in proprio, per cui quindi tutto quello che viene venduto viene anche prodotto dal Manchester United, al di là delle mute, delle maglie da gioco che ovviamente hanno lo sponsor come tutti gli altri. Questo cambia completamente la natura di quei dati. Il fatturato è senz'altro molto più elevato che quello delle nostre squadre, di quasi tutte le altre squadre europee, che è rappresentato da percentuali. Quando va bene da percentuali sul venduto, altrimenti solamente dai fee dei contratti che vengono firmati. Quindi quelle due società che stanno ai vertici di questa classifica mondiale hanno senz'altro dei modelli diversi, per cui non è così importante che le nostre si comparino a queste. No, è vero, è vero, dicevo proprio inarrivabili qui. Esatto, esatto. Troviamo dei termini di paragone che invece si gioca in quella zona lì, dal quinto posto in giù, sesto. Esatto, deve essere fatta piuttosto con il Bayern, capire bene perché il Bayern è arrivato, eccetera. Grazie Barbara.